Romana, Massimo, grazie per questo invito. Ringrazio Romana perché ogni anno da 13 anni a questa parte il premio intitolato a suo nonno Guido ci permette di onorare la memoria e riscoprire la straordinaria attualità del suo pensiero e della sua opera. Comincio la mia riflessione in questi tragici momenti che toccano la nostra vita di italiani e di europei ricordando proprio Guido Carli e l'Europa. Tanto ha fatto Carli per l'Europa. Potremmo anche dire tutto. Fu Carli fin dal secondo dopoguerra ad avvallare e negoziare i vincoli esterni che hanno di fatto obbligato l'Italia a delegare a istituzioni internazionali e sovranazionali rilevanti quote di sovranità. Questo termine ritorna anche in positivo con lo scopo di migliorare l'economia e l'efficienza del Paese, di sprovincializzarlo, il vincolo esterno. Attraverso i suoi molti incarichi da negoziatore per l'adesione italiana agli accordi di Bretton Woods, a presidenza del Mediocredito Centrale, da governatore della Banca d'Italia, a ministro del Tesoro, è stato indubbiamente tra i principali, se non il principale protagonista, della trasformazione dell'Italia da società chiusa a economia protetta, a società aperta, a economia di mercato. Questa è la chiave. Proprio quest'anno è stato ricordato, appena ricordato, si celebra il trentennale del suo capolavoro negoziale europeo, il Trattato di Maastricht, di cui da ministro del Tesoro nel settimo governo Andreotti fu tra i firmatari per l'Italia, appunto il 7 febbraio del 92. Le contrapposizioni tra gli Stati membri erano, allora come ora, molto aspre. Il nostro Paese diede prova di grande lungimiranza e unità nella convinzione che l'Europa potesse rappresentare un'opportunità imperdibile per la modernizzazione del nostro Paese. Un'opportunità imperdibile per la modernizzazione del nostro Paese. Nella sua autobiografia, 50 anni di vita italiana, Carli scriveva come l'Italia avesse ricevuto con il Trattato una nuova occasione per ritentare l'impresa ripetutamente fallita in questi decenni, anni. Innestare l'economia di mercato nel tessuto vivente, nelle fibre della società. Industria, introdurla a mentalità della classe dirigente e favorire la nascita di una nuova classe dirigente. Ebbene, questa è la stessa opportunità che ci troviamo oggi di fronte con il Next Generation EU. Oggi, a 30 anni da Maastricht, possiamo dire che il percorso di integrazione monetaria ha contribuito al recupero della credibilità in materia di finanza pubblica in un Paese affetto da azzardo morale cronico. Non rispettare i patti. La solita Italia. Ecco, adesso sta cambiando qualcosa. Ce lo dicono. Lo percepiamo. Basta azzardo morale, come lo chiamano gli economisti. Durante il negoziato, i tedeschi, il cui rigorismo si era esacerbato sulla fine degli anni 91, 90 e 91, spingevano per inserire rigide soglie parametriche nel testo. Anziché rispetto pedis, a cuo di una soglia, Carli propose e riuscì ad ottenere l'introduzione del criterio della tendenza a un obiettivo prefissato. Un merito storico di cui, alla fine, ha beneficiato l'intera Europa. La parametrizzazione ha rischiato di distruggere l'Euro, ha rischiato di distruggere l'Unione Europea. Ma questo è il passato. Qui adesso vengo al cuore del mio discorso. Quello che in fondo abbiamo tutti nella mente. Cosa farebbe Guido Carli oggi per l'Europa? In queste ore, e vedremo perché in queste ore, in questi giorni, e vedremo perché in questi giorni. non ho alcun dubbio. Starebbe dalla parte di Draghi e Macron. Sosterrebbe lo spirito alleggiato al Consiglio Europeo Informale di Versailles, nel 10-11 marzo. Sosterrebbe il disegno di un'Europa sovrana su energia e sicurezza, attraverso un nuovo indebitamento comune. Un nuovo momento Hamilton dal segretario al tesoro degli anni Ottanta, del Settecento, che mise insieme gli Stati Uniti, mettendo insieme gli debiti degli Stati che avevano combattuto contro la potenza coloniale inglese. Un nuovo momento Hamilton, dopo quello del Next Generation U. uno. E servirebbe, serve, servirà, un nuovo Next Generation, che potremmo chiamarlo due. Stavolta, senza essere ripartito tra 27 Stati, come è avvenuto per rispondere alla crisi provocata dalla pandemia, ma dovrebbe servire a raccogliere, si è detto, fino a 2.000 miliardi per rafforzare la sovranità europea nei settori strategici che la guerra in Ucraina ha drammaticamente messo in risalto, come punti di fragilità del processo di integrazione, energia e difesa, appunto. Lunedì prossimo, il 9 maggio, l'Europa sarà a un video citando il Presidente Mattarella, quello tra una regressione della sua storia e la capacità di sopravvivere ai mali del proprio passato e di superarli definitivamente. Vedete, e qui sale l'emozione, forse anche la rabbia. ci saranno due discorsi lunedì prossimo. Quello probabilmente violento di Putin a Mosca nella Piazza Rossa per le strumentali celebrazioni della vittoria russa sui nazisti e quello di Macron a Strasburgo all'Europarlamento per la cerimonia conclusiva della Conferenza per il Futuro dell'Europa dove il Presidente francese pronuncerà parole sull'Unione che ci attendiamo ancora più forti di quelle pronunciate alla Sorbonne il 26 settembre del 2017 revisione dei trattati sovranità europea difesa comune politica estera comune energia comune rivoluzione digitale e ambientale a Strasburgo città simbolo dell'Europa al Parlamento europeo luogo simbolo della costruzione europea da un lato a Mosca l'involuzione insanguinata e la tragica regressione della guerra un disegno di egemonismo da parte di un'autocrazia inefficiente e violenta come tutte le autocrazie dall'altro lato a Strasburgo un progetto di crescita di inclusione di diritti di democrazia di libertà il nostro futuro Guido Carli ci ha insegnato dove stare da una parte sola quella dell'Europa della nuova Europa un'Europa capace di resistere agli istinti animali per riprendere l'espressione che usò per definire le forze della società italiana che remavano contro l'efficienza per far prevalere la responsabilità collettiva un'Europa pronta a modificare i suoi trattati per rafforzarsi come ha chiesto Draghi nel suo splendido discorso il 3 maggio a Strasburgo evocando un federalismo pragmatico e come provvede la risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 4 maggio per l'avvio di una nuova Costituzione europea sentite i termini la nuova Costituzione europea era tanto che non si sentivano questi queste parole questi termini questi valori con la percezione che siano portata di mano nessuno Stato si salva da solo non c'è sovranità possibile se non europea se non europea nel dubbio per l'Europa siamo univa Helmut Kohl nel dubbio sempre per l'Europa oggi Carli starebbe al fianco di Mario Draghi il migliore interprete di questo spirito del tempo Zeitgeist come ci direbbe lui nel suo perfetto tedesco il suo migliore rete Mario Draghi per un'Europa più forte più ricca più giusta in ultima analisi più sovrana per quell'Europa che è nelle strade di Buccia e nei tunnel di Mario Pol come ha detto ancora questa mattina la bravissima Presidente dell'Europarlamento Mezzola ha ragione non c'è alternativa all'Europa baluardo della democrazia liberale della pace e della libertà è questo che Guido Carli aveva capito prima degli altri ora tocca a noi il futuro dell'ordine democratico globale è sulle nostre spalle dobbiamo difendere la politica della speranza ancora una volta sì whatever it takes l'Europa sarà forgiata dalle crisi e sarà la somma delle risposte a quelle crisi diceva Jean Monnet oggi è il tempo delle risposte grazie parla lo scienziato e il CEO Bryant Farm Mauro Ferrari grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti